cari amiche e cari amici buonasera proseguendo nella nostra discussione sulla battaglia dei cento anni fra modernisti e tradizionalisti poniamoci il problema di qual è stato il lascito di questo primo modernismo a questo proposito vi segnalo serie molto interessante sul canale del di padre marcello bravo perera docente alla lateranense sulla nouvelle teologia è una serie di una decina di puntate molto interessante fatta molto bene il padre è un neotomista convinto pure ma nessuno è perfetto dovete capire e comunque è persona sicuramente molto colta molto preparata che vi darà molti elementi di riflessione quindi come vedete io sono in dissenso però mi sembra utile segnalare contributo di valore come vi ho detto a un certo punto nell'ottocento si rese palese a tutti la situazione di crescente isolamento della chiesa soprattutto di perdita del senso della storia del rapporto col mondo circostante era evidente che ormai il mondo andava avanti per i fatti suoi e la chiesa si attardava in un ostinato quanto vano tentativo di opposizione alla modernità in quanto tale la chiesa iniziò a difendersi dalla modernità in ogni suo aspetto il liberalismo lo stato nazionale la questione sociale l'autonomia scientifica tutto quello lo sviluppo tecnologico ha sempre trovato nella chiesa l'opposizione più decisa questo fu già chiaro addirittura verso il 1840 a vincenzo gioberti un autore che io spero voi ricorderete dalla vostra dallo studio della storia nelle medie inferiori e superiori e a un certo punto gioberti dirà guardate che prima o poi la chiesa dovrà fare i conti con l'evoluzione storica diversamente non avrà un futuro e aveva ragione gioberti cioè più ritardava questo e più il di sta la perdita di contatto della chiesa con la società col mondo diventava abissale era una chiesa che certo né gioberti né altri teorizzavano che diventasse una chiesa del mondo ma che volevano che tornasse ad essere una chiesa nel mondo e non fuori del mondo probabilmente i primi modernisti abbiamo citato per esempio alcuni nei video precedenti nei video precedenti però noi adesso centriamo l'attenzione su uno di questi la teologia liberale protestante anche alcuni autori francesi importanti però centreremo l'attenzione su un autore per certi versi atipico intanto perché nasce irlandese anglicano all'età 17 anni si converte alla fese cattolica e al 18 diventa novizio gesuita poi sarà ordinato sacerdote a 30 anni i gesuiti sono quelli che hanno il periodo di preparazione al sacerdozio più lungo di tutti proprio perché c'è un periodo di formazione culturale molto prolungato e sto parlando di George ecco qui c'è una cosa l'ho sentito citato sia la francese tirel sia l'inglese tirel l'ho sentito in tutti e due modi io resto più affezionato sarà per la mia francofilia alla dizione tirel ma comunque fate voi dunque tirel venne prima espulso dalla compagnia di gesù però non venne scomunicato perché la compagnia di gesù aveva orrore di un processo pubblico perché la scomunica avrebbe reso pubblico questo e l'idea di ammettere che un gesuita ordine fedelissimo al papo potesse covare nel suo seno un eretico era pensiero poi dopo si abitueranno ma all'epoca la prima volta sapete c'è sempre la prima volta venne espulso dalla compagnia e non scomunicato ma allontanato dagli sacramenti non poteva ricevere i sacramenti anche se per la verità diversi sacerdoti sui amici continuarono a portargli eucharestia confessarlo eccetera però insomma che però già dall'idea della disobbedienza che inizia ad esserci nella chiesa apparato quando morirà il vescovo gli negherà la sepoltura in terreno consacrato cattolico lui però vorrà una sepoltura un po' particolare nel senso che la lapide porta un'iscrizione voluta da lui decisa da lui in cui c'è l'ostia e il e non il nome ma la scritta un sacerdote cattolico a dire che lui non si sentiva ridotto allo stato laicale continuava a sentirsi sacerdote della chiesa cattolica dunque i due peccati mortali imputati a Tyrell o Tyrell erano il metodo scientifico applicato alla lettura delle sacre scritture e la questione del popolo di Dio e questo vanno spiegati un po' tutte e due allora nella chiesa cattolica ci sono due tipi di teologie mette o meglio di metodologie teologiche la teologia positiva che è quella ricavata dalla lettura delle scritture e il secondo piano dalla patristica che era molto rea tutta la teologia patristica non poteva che fondarsi sulle scritture c'è poi un secondo tipo di teologia metodologia teologica che è quella speculativa ora mentre i padri della chiesa erano i protagonisti della teologia positiva i santommaso e la scolastica furono i rappresentanti della teologia speculativa cioè della costruzione filosofica di quello che siccome la cristianesimo è pensato come come religione razionale della ragione come filosofia e quindi basato sul ragionamento e sulla speculazione ma soprattutto una cosa mentre ancora santo maso sì che certamente esalta il momento filosofico fonda la scolastica su questo però ancora mantiene un rapporto con la teologia cosiddetta positiva quando poi si passerà alla seconda scolastica quella fatta dalla manualista i bignani dell'opera di santommaso sparirà quasi completamente il riferimento alla teologia positiva henry de lubac che sarà uno dei protagonisti della nouvelle teologie cioè della seconda ondata di modello del modernismo come vedremo dirà chiave un po polemica cioè qui ci sono due tipi di teologi ormai nella chiesa i teologi che dicono torniamo alle scritture torniamo alla patristica indaghiamo da cui sulle fondamenta storiche delle scritture non dimentichiamoci dei filosofi greci e dei teologi greci eccetera eccetera e poi un secondo tipo di teologo che è quello che dice no non perdiamo tempo c'è già una cosa il magistero papale e non perdiamo tempo con queste cose addirittura occuparci dei problemi della società contemporanea ma chi se ne frega facciamo riferimento a quello che dicono i papi e la cosiddetta teologia di densinger densinger chi era era un teologo che fece un importante lavoro una raccolta completa delle pronunce papali eccetera 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 e comunità anche di apparato cronologico quindi una summa del pensiero papale ecco quello è il punto di riferimento il punto riferimento sicuro perché diceva dei lubac i teologi ritenuti sicuri sono quelli che si fermano al magistero papale possibilmente più recente che così non c'è proprio discussione questo fu peraltro uno dei frutti avvelenati di quel processo che porterà la proclamazione dell'infallibilità pontificia e poi più tardi dopo la proclamazione dell'infallibilità al affidamento che si faceva beh se lo spirito santo assiste il papa basta restare all'analisi degli magisteri dei singoli pontifici il risultato fu un ulteriore catastrofico impoverimento culturale filosofico e teologico della chiesa vedete la chiesa cattolica santa madre chiesa ha sempre avuto un rapporto molto difficile con le scritture anzi diciamo la verità non le ha trattate molto bene so che la cosa farà venire i capelli dritti in testa a diversi che mi ascoltano ma la verità è quella in che senso nel senso prima di tutto ho detto privilegiare il magistero papale sulla teologia positiva ricavata alle scritture e anche sulla teologia dei santi padri della fase iniziale della chiesa quando la chiesa attraverso le campagne contro gli eretici stabilisce il quadro diciamo in qualche modo comune a tutta la comunità ecclesiale in modo che non ci siano deviazioni sulle scritture poi beh certo non è che si poteva farle sparire questo no però è già sintomatico che per esempio le traduzioni della bibbia in lingua volgare fossero poste all'indice fa un buon dio se esiste quanto sarà stato corrente contento del fatto che la scrittura fosse posta all'indice ma tendenzialmente l'attorgimento era questo prima di tutto il vecchio testamento ridotto ai margini non perdiamo tempo sì va bene ogni tanto qualche citazione ma non più di tanto ecco poi i libri difficili del nuovo testamento centralità dei vangeli ma per esempio quello che erano i libri più di l'apocalisse di san giovanni è troppo complicata il gatti degli apostoli contengono troppi passaggi inquietanti il rapporto non facile fra pietro e paolo la madonna non è proprio in primissimo piano eccetera va bene da parte giusto qualche frasetta ogni tanto non solo il vangelo di san giovanni i vangeli proposti alla meditazione dei fedeli erano i tre vangeli simottici marco matteo e luca il vangelo di san giovanni è troppo filosofico troppo astratto poco adatto ai ai fedeli e tutto sommato anche al basso clero che poteva sì va beh certo era consigliato a leggerlo ma insomma non era proprio quello su cui si fermava la riflessione infine anche i vangeli diciamo cosiddetti sinottici tre vangeli più narrativi meno filosofici marco matteo e luca erano in qualche modo ridotti a che cosa al racconto dei miracoli e delle parabole di gesù l'aspetto più facilmente proponibile ai fedeli quello che andava più d'accordo con l'idea della fondazione della legittimità della chiesa perché ci sono i miracoli e le profezie e quindi quello può andar bene molto naturalmente attenzione alla narrazione della passione della morte della risurrezione di gesù che tra l'altro è il cuore liturgico dell'anno liturgico della chiesa cattolica la settimana di passione poi il tempo di pasqua sono fino alla pentecoste sono il cuore delle celebrazioni eucaristiche della chiesa cattolica ecco tutto questo ovviamente rendeva superfluo lo studio delle scritture in chiave storica addirittura stando a vedere se erano confermate le cose che venivano dall' archeologia dalla addirittura dalla antropologia che cominciava a facciarsi orrore eccetera tutto questo non era proprio necessario lasciamolo perdere avventurarsi sul terreno delle seggesi biblica era un uzzolo da protestanti e lasciamolo ai protestanti e tale la avvertiva avvertiva sul pericolo di una religione di una costruzione culturale che attraverso la speculazione non faceva altro che produrre dogmi fondati su dogmi e a loro volta nuovi dogmi fondati su dogmi che erano fondati su dogmi anche perché questo portava a una depauperazione dell'aspetto razionale del cristianesimo paradossalmente perché allontanava dalle fonti ma soprattutto allontanava dal senso storico e io gli ho detto che la caratteristica straordinaria del cristianesimo è il senso del tempo e della storia intesa come storia della salvezza certo come attuazione del piano di salvezza voluto dalla divina provvidenza nella storia nel tempo e questo invece allontanava c'è poi il secondo punto che è quello della questione del popolo di dio Tirel dice ma guardate che tutto sommato nelle scritture non c'è scritto che Cristo volesse fondare una chiesa e soprattutto in che senso dobbiamo intendere c'è tutto un dibattito molto complicato che continua ancora oggi sulla famosa investitura di san Pietro tu sei Pietro su questa Pietro io fonderò eccetera eccetera sì ma fonderò che cosa in che senso intendere la chiesa e qui ci sono due idee c'è una chiesa comunità è una chiesa apparato guardate che è interessante notare il parallelismo con quello che sia pure in modo molto diverso su un terreno completamente diverso dice il diritto il nascente diritto costituzionale laico per cui si parla di uno stato comunità e di uno stato apparato Tirel polemizza sul fatto che dice no un momento la chiesa che ha voluto Cristo è la chiesa comunità fondata su comunità locali sulla partecipazione di tutti i fedeli e nel quale nella quale non c'è ragione di pensare ad un ruolo specifico particolare dell'apparato perché l'idea che esiste una chiesa docente quella abilitata a studiare le sacre scritture e a interpretarle e insegnare ai fedeli come va andava letta la tradizione delle scritture eccetera ed è basata sulla triade papa vescovi sacerdoti quella è la chiesa docente i fedeli i laici cioè non ordinati anche se teologi studiosi teologi non parliamo delle donne anche se poi a un certo punto hanno dovuto riconoscere che santa caterina da siena è un dottore della chiesa esattamente come santo maso però questa verrà molto tardi ecco quella invece è chiesa discente cioè che apprende il ruolo docente spetta al clero ecco questa è una cosa che secondo me i laici troppo spesso trascurano non capiscono soprattutto un certo antichlericalismo confonde il clero con la chiesa tucur il clero cioè la struttura di potere della chiesa è una cosa anche se bisogna dire che anche nella struttura clericale sono state ottime persone persone che rappresentano una cosa che san francesco non è stato mai ordinato sacerdote lui non ha voluto essere ordinato sacerdote quindi sarebbe chiesa discente non chiesa docente insomma si fa qualche fatica e qui viene un dubbio è casuale che per tanti secoli nessun papa ha usato il nome di francesco cioè di un fraticello non sacerdote quindi non appartenente alla chiesa docente e invece lo ha usato questo papa perché guardate che in fondo lo vedremo più avanti la struttura del sinodo in forme discutibilissime ne parleremo però tendenzialmente che fa opera il recupero di questa idea di tirrell sulla chiesa comunità basata su comunità locali e attenua fortemente il ruolo docente del clero in realtà ci sono molte soluzioni possibili eh non non è ma ne parleremo più avanti ora per tirrell l'eredità della che è l'assistenza dello spirito santo non è alla chiesa docente non è al papa ai vescovi e poi man mano al basso clero cioè al ai sacerdoti e al popolo di dio nel suo complesso di cui anche sacerdoti vescovi fanno parte non sono sovraordinati sono parte della comunità e naturalmente voi potete capire che questo suonava sgradevolmente eretico alle orecchie di santa madre chiesa intesa in quanto struttura in quanto chiesa docente questo stesso il bello è che il punto di vista della chiesa docente diventa lo stesso punto di vista degli anticlericali che identificano la chiesa con il clero dimenticando che la chiesa non è solo quello eh la chiesa ha anche dentro una partecipazione popolare dei fedeli tra cui molti svolgono un eh dignitosissimo apostolato ma pensate al ruolo delle suore negli ospedali dei missionari in terra di missione eh del delle scuole per i poveri ma insomma anche di san Giovanni Bosco è del suo ordine non tutti sono sacerdoti sono anche i quadriutori che sono laici che fanno parte della comunque chiesa discente in questa visione beh insomma è un fatto un po' più complicato la chiesa e in questo senso io che personalmente non ho difficoltà a dichiararmi anticlericali però penso che sia assolutamente sbagliato primo identificare la chiesa solo con sacerdoti papi e vescovo e vescovi in secondo luogo disconoscere i meriti che ci sono mai disconoscere i meriti anche degli avversari quindi questo va eh detto bene questo pensiero è rimasto sotto traccia perché più decimo è riuscito a cacciare il modernismo a imbavagliare il modernismo e la lotta contro il modernismo come vedremo continuerà ancora e per un bel po' ma non è riuscito a distruggerlo il modernismo continuerà a serpeggiare come vedremo e a serpeggiare soprattutto nel ruolo di due organi di due parti della chiesa che erano pensate come il presidio supremo dell'ortodossia le compagnie di Gesù e di San Domenico cioè Gesuiti e Domenicani ci dedicheremo un video apposito vedete la chiesa ha continuato a pensare che la penetrazione del fumo di Satana entro le sue mura quindi il progressivo prodursi delle eresie sia stato il frutto di una oscura macchinazione diabolica che è passata prima attraverso l'utero e poi attraverso la massone via che è un ottimo modo di non capire niente e vi spiego perché ci saranno stati sicuramente gruppi che nella clandestinità hanno continuato a lavorare per conquistare la chiesa ci saranno state sicuramente iniziative massoniche per ridurre la chiesa cattolica a un generico deismo tutto questo per carità sarebbe strano che ci fosse stato ci saranno sicuramente gruppi gnostici interni esterni alla chiesa ma guardate questa è la cosa meno importante la cosa più importante è il processo attraverso il quale il mondo cambia e spinge la chiesa o all'isolamento o al prendere atto di questo evitamento questo lo capite in particolare nel caso italiano caso italiano ne abbiamo avuto due personaggi importanti centrali romolo murri fondatore della democrazia cristiana che fu la testa politica del movimento che poi ruppe con la chiesa fu scomunicato anzi addirittura scomunicato vitando quindi scomunica maggiore che si farà eleggere deputato sia pure come indipendente nelle liste radicali beh sto parlando di radicali molto prima di pannella peraltro eh e che morirà scomunicato eccetera e che è stata la testa politica l'altro la testa teologica filosofica l'intelligenza maggiore è stata quella di Ernesto Buonaiuti beh c'è una cosa molto interessante che di cui vi devo parlare e che vi dice come il pensiero modernista mette le radici e sia pure sotto terra continua a lavorare c'è una testimonianza assolutamente insospettabile di Giulio Andreotti ecco qui i quattro del Gesù adesso vi spiego di che si tratta guardate è una cosa che io un po' affronto nel mio libro su Giulio Andreotti anche se purtroppo ho dovuto tagliare proprio per ragioni di spazio il capì con grande dolore il paragrafo che ho dedicato a questo libretto perché nella ricostruzione politica del personaggio e diciamo poi la parte più legata al suo essere cattolico eccetera no no annullata no anzi ho insistito per metterla però ridimensionata e sacrificata perché già le pagine erano un po' troppe per le esigenze della casa di Tizio ho dovuto togliere anche paragrafi sulla struttura di potere in Italia in quel momento eccetera perché diciamo vabbè la prendi troppo alla lontana e vabbè però vi prometto che queste parti e spunte po' alla volta ve le restituisco qui in video dunque Andreotti scrive di Andreotti c'è un'immagine tutti pensano che Andreotti fosse un cattolico tradizionalista antimodernista e un cattolico addirittura anticonciliare che al massimo per obbedienza al Papa che per di più era stato l'assistente ecclesiastico della Fucci quando lui era segretario e poi presidente della Fucci quindi anche per il rapporto personale con Giovanni Battista Montini si era adeguato non è proprio così molto di questa leggenda su un Andreotti tradizionalista legato al fatto del suo rapporto personale con il cardinale Ottaviani Alfredo Ottaviani certamente il principale combattente del fronte tradizionalista del concilio peraltro isolatissimo alla fine quando votavano su alcune cose eccetto qualche eccezione non arrivavano mai al 10-12% dei voti dei padri conciliari eh ma lo vedremo quando parliamo del concilio in realtà c'era un rapporto personale di amicizia fra i due e i cattolici quelli veri ce ne sono sapete tra i cattolici c'è anche gente che crede veramente in non sono molti però ci sono e Andreotti è uno di quelli il cattolico vero distingue molto fra il rapporto personale e il suo dovere nei confronti della chiesa perché vedete la psicologia del vero cattolico è diversa dalla psicologia che erano noi laici noi laici pensiamo in termini di rapporti a due io e il mio avversario interlocutore quello che è il cattolico pensa in un rapporto tripolare io il mio interlocutore e il buon dio al quale io devo rispondere del servizio alla chiesa cattolica quello che sto facendo serve alla chiesa cattolica o no e quindi c'è una distinzione molto forte io posso anche essere amico di quel cardinale ma non condividerne il punto di vista e quindi c'è una partita di natura teologica eccetera dove io devo essere fedele per esempio al papa per esempio è un'altra che il rapporto di amicizia personale ecco questo spiega molto del rapporto Ottaviani Andreotti a un certo punto scrisse questo libretto prezioso del quale vi dirò eh che riguarda quattro seminaristi non ancora sacerdoti che erano amici fra di loro e andavano a al vestro a pregare nella chiesa del Gesù quindi chiesa gesuita per eccellenza eh e andavano a pregare alla chiesa del Gesù dove si è porto San Ignazio sia chiaro e anche San Francesco Saverio per ed erano di chiare simpatie moderniste al punto che uno di questi era Ernesto Buonaiuti mi pare che non ci sia nessun dubbio sul fatto che fosse un modernista poi c'era padre Giulio Belvederi e padre Domerico Svampa e poi c'era un altro seminarista tutti quanti diventarono sacerdoti Angelo Giuseppe Roncalli futuro Giovanni ventitresimo e che molti poi ricorderanno come sospetteranno come papa modernista in realtà anche questa è una cosa un po' rozza a proposito di eh Angelo Roncalli non è proprio così adesso vedremo eh ma il rapporto soprattutto con Buonaiuti di papa Giovanni ventitresimo futuro papa Giovanni era un rapporto molto stretto vi devo dire un particolare nella chiesa cattolica dopo l'ordinazione di un prete c'è la cerimonia della prima messa del prete che naturalmente è considerata una cosa di particolare importanza valore tanto è vero che la messa è servita non dai chierici dai chierichetti eccetera o da un diacono ma da un sacerdote ordinato che quindi diventa una sorta di padrino del nuovo sacerdote ebbene il sacerdote che fece da servente di Giovanni ventitresimo fu Ernesto Buonaiuti questo a dirvi di ora questi quattro due fecero una pessima fine eh Buonaiuti e svampa che vennero sbattuti fuori ridotti allo stato laicale poi buonaiuti scomunicato invece mh Giovanni ventitresimo si salvò per il rotto della cuffia perché andò a fare il segretario del vescovo di Bergamo il quale eh lo protesse eh diventando in qualche modo il suo eh Giacomo Valini tedeschi diventò il suo scudo rispetto ai fulmini e quindi il buon eh Giovanni ventitré futuro Giovanni ventitresimo poi lentamente farà carriera sintomaticamente non una carriera interna diciamo alle autorità pastorale non divenne subito vescovo eh fu un annunzio apostolico prima in Bulgaria poi in Turchia poi in Francia e solo alla fine naturalmente in Francia era già vescovo però ehm non dei vescovi in sede titolari di diocesi era pur sempre un diplomatico della chiesa e divenne vescovo in sede patriarca di Venezia solo anni cinquanta inoltrati cioè a un passo dalla sua elezione a Papa quindi sia pure mantenendosi in questa posizione un po' defilata però farà carriera ma su Giovanni ventitresimo torneremo gli altri invece verranno pestati di santa ragione e la cosa intera testimonianza interessante di Andreotti è quella di una paginetta nelle prime pagine in cui lui dice una cosa ma insomma noi della Fucci insomma furono colpiti molto negativamente dalla scomunica di Buonaiuti e con Buonaiuti che era docente alla Lateranense e c'era una consuetudine di lavoro conoscevano rapporti Buonaiuti però un personaggio anche abbastanza carismatico eh aveva era un personaggio che aveva le sue per esempio anche dopo che eh venne scomunicato ridotto lo stato laicale eccetera scomunicato lui comunque continuò sempre a restare celbe e a vestire la talare nonostante i fulmini della chiesa e le pressioni della chiesa della polizia fascista che su istituzionale la chiesa diceva tu non puoi più vestire la talare ma lui riteneva di aver promesso questa cosa a Dio e a sua madre che non avrebbe mai lasciato la veste ma guardate queste cose simboliche hanno un loro valore per cui l'atteggiamento dei fucidi non fu mai un atteggiamento particolarmente ostile distante a Buonaiuti anzi anche altri autori che odoravano di Zolfo per esempio Jacques Maritain e Andreotti ne parla con grande interesse direi anche anche se in un suo libro visti da vicino riporta uno scatto nervoso di Maritain contro del personale di aeroporto e c'è che lo deluse perché insomma si era fatto un'immagine diversa del personaggio e no la fuci era un ambiente tanto è vero che Andreotti poi alla fine si schiererà sempre per l'autonomia della dc dalla chiesa non ostante fosse il cocco di Pio XII al quale si rivolgeva anche in modo un po' impertinente beh vi anticipo una cosa del mio libro a un certo punto papà pacelli che riceve lo riceveva spesso in udienza privata quando lui era sottosegretario della presidenza del consiglio con delega specifica ai servizi di censura del buon costume gli fece una sfuriata mostrandogli una rivista nella cui copertina compariva una famosa attrice che aveva un po' troppi centimetri di pelle scoperti o non pensate a niente dice sì sto parlando di qualcosa a sud del collo è questo e gli fece una lavata di testa il giovane Andreotti lo ascoltò con aria molto deferente poi disse ma santità secondo lei è più grave la responsabilità della chiesa o la responsabilità dell'editore della rivista? XVI non potete dire ma naturalmente dell'editore ecco santità l'editore di questa rivista il vaticano e naturalmente la cosa lasciò papa pacelli molto contrariato non lo sapeva poverino però è uno che risponde in questo modo a un papa e quale papa insomma è un personaggio che ha un forte senso della sua personalità e della sua autonomia quindi insisto sul dire attenzione Andreotti è stato certamente un cattolico credente fino all'ultimo suo giorno però attenzione non è mai stato il chierichetto che prende ordini dalla santa sede anzi talvolta Riccardi il capo della comunità del decidio lo definisce il cardinale esterno e in certa misura è vero ora Andreotti in questo libro di cui torner libretto guardate è una cosa molto sottile si legge in due ore tre ore e ci fa tutto un ragionamento su come in fondo arriva a dire che Don Romolo Murri ancora più ma sbaglia per ragioni politiche ma che padre Ernesto Bonaiuti che per la verità poverino fu denunciato alla congregazione di propaganda per la fede da Benigni che era la spia antimodernista però ecco gli rimprova Andreotti gli dice avrebbe dovuto sottomettersi avrebbe dovuto avere pazienza aspettare cioè in realtà Andreotti difende gli entristi della chiesa cattolica questa è una cosa interessante da tenere presente ed è tutto un percorso del modernismo che poi ritroveremo un po' più avanti qualche altra cosa vi dirò ecco come gli uomini sono animali strani perché somigliano tanto ai rami delle rose oddio non per via del fiore quanto per il fatto che sapete che quando un ramo di rose strappato dalla pianta viene sradicato rompe il suo rapporto della pianta però se lo metti in una bottiglia con dell'acqua e lo curi e cambi l'acqua eccetera eccetera dopo un po' rilancia le radici lo puoi ripiantare e sarà una nuova pianta di rosa non perfettamente identica la precedente questo succede per esempio per gli immigrati che acquista una nuova identità nazionale succede per le ideologie succede anche per le religioni succede un po' per tutto ci sono quelli che mettono nuove radici ebbene quello che è successo e quello che come vedremo succederà con la cosiddetta nouvelle theologie che in realtà non è altro che la seconda fase del modernismo solo che nessuno si azzardava a rispolverare quel nome che era già scomunicato e condannato da più decimo quindi no dire modernismo è brutto non lo diciamo però diciamo nouvelle theologie nuova teologia suona così bene perché no ma in realtà non è sbagliato dire che sarà la seconda fase del modernismo più avanti spiegheremo meglio come grazie e a risentirci grazie 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 grazie